Francesco Mancini, Scuola Calcio Mirabello, fa un certo effetto vedere con i riflettori di sera questi ragazzini che si allenano qui in questa struttura molto bella? Sì, diciamo uno dei punti di forza della Scuola Calcio è proprio l'astruttura che abbiamo a disposizione di questo ringraziamo soprattutto il comune di Mirabello che ha fatto sì che mettesse su una struttura di questo livello abbiamo un campo in erba sintetica sinceramente forse uno dei migliori della regione una palestra polifunzionale molto all'avanguardia e diciamo così queste sono cose che ci permettono di fare un lavoro fatto bene insomma con tutte le accortezze del caso. Ecco Francesco in cosa consiste un po' la seduta che stiamo vedendo? Niente, i ragazzi insomma fanno diciamo delle attività soprattutto fondamentalmente sempre con la palla che diciamo che è l'oggetto principale del gioco del calcio e quindi noi lavoriamo soprattutto col pallone senza assolutamente nessun esercizio a secco e penso quello per loro sia il divertimento più grande e niente, questo diciamo che è il nostro punto di forza. Partitelle tra di loro? Sì, assolutamente sì, la seduta finisce sempre con una partitella finale dove loro sfogano un po' tutte le loro emozioni sai il gol, la parata e tutto quello che è di bello del gioco del calcio. Il meglio, quanto dura insomma un allenamento in questi due giorni mi pare martedì e giovedì giusto? Il martedì e giovedì con una seduta di un'ora e un quarto dalle 18 alle 19 e 15 due volte a settimana, poi c'è qualche allenamento facoltativo il venerdì per i più grandi nel 2011 e poi qualche partita in fase settimanale, qualche amichevole, adesso comincerà anche il campionato insomma. Avete anche la palestra qui? Sì, la palestra che usiamo quando ci sono casi di pioggia molto abbondanti, insomma abbiamo come dicevo prima la possibilità di usufruire di questa splendida struttura e quindi la usiamo anche per fare attività all'ora chiuso. Una curiosità Francesco, la prima volta che vengono, quali sono le domande più frequenti che fanno? Ma vabbè, il ragazzo vuole fare subito la partita, dice quando giochiamo, quando vuole il contatto col pallone noi lo mettiamo subito a disposizione, quello è il nostro scopo, poi noi abbiamo un motto che portiamo avanti da un po' di anni insomma che crescere nello studio, nello sport e in salute, questo cerchiamo di farlo a 360 gradi insomma il nostro scopo è quello di far sì che i ragazzi tornino a casa contenti e soddisfatti dell'allenamento fatto e soprattutto della socialità che hanno vissuto fra di loro in quest'ora e un quarto che stanno insieme. Grazie.